E' stato inaugurato domenica il Cineteatro Eduardo Di Filippo, il primo al mondo in attività a portare il nome del grande attore partenopeo. Il taglio del nastro è stato un evento storico, considerato che dopo esattamente 30 anni Agropoli e l'intero comprensorio dell'Alto Cilento hanno ritrovato il loro teatro. Era il dicembre del 1984, infatti, quando l'ultimo cinema presente in città, il Maxim, chiuse definitivamente i battenti, per una strana coincidenza del caso, proprio nello stesso anno della morte del grande Eduardo. Un decennio dopo, invece, fu dismesso il Teatro La Scommessa, un piccolo edificio utilizzato prevalentemente per spettacoli amatoriali. Per tutti questi anni gli agropolesi e i cittadini del comprensorio sono stati costretti a raggiungere Salerno o Vallo della Lucania per assistere a delle rappresentazioni teatrali o a proiezioni cinematografiche che in città potevano essere ospitate soltanto in locali privati o nelle aule magna degli istituti scolastici. Da oggi, invece, l'Alto Cilento tornerà ad avere un teatro degno di questo nome, una struttura da 510 posti a sedere, con un ampio palcoscenico, camerini e sala regia, capace di ospitare prosa, opere liriche, danza, commedie musicali, concerti e proiezioni cinematografiche. Da gennaio saranno messi scene i primi spettacoli amatoriali. La stagione teatrale, invece, partirà in primavera, quella cinematografica, il prossimo febbraio.